Dietro di me il primo dei tanti ospiti che oggi ci accompagneranno in questo viaggio, in questa lettura della quarantena condivisa che tutti noi italiani stiamo vivendo, il sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio che ringrazio per essere nuovamente con noi. Grazie a te, buona giornata a tutti. Buona giornata Michele, io ci tenevo particolarmente alla sua presenza perché a parte essere uno dei sindaci più attivi soprattutto sui social, quindi lei detta direttamente ai suoi cittadini cosa bisogna fare e cosa non bisogna fare, lei è stato il primo sindaco che ha chiuso, quindi io partirei da qui, la vostra piazza, la piazza Aldo Moro è stata la prima piazza chiusa ufficialmente in Italia. Partiamo da questa iniziativa e poi le farò altre domande. In realtà siamo stati i primi a chiudere anche giardini, villa comunale e cimitero, ma per una lettura del dispositivo perché più che andare sulla interpretazione letterale io credo che dobbiamo andare alla finalità legislativa. Se è quella di limitare le uscite dei cittadini soltanto i problemi della salute e della spesa e i problemi di lavoro legati all'interno del proprio territorio e allora non ha senso tenere aperti i cimiteri, i parchi, le ville, le piazze. Abbiamo transenato anche le panchine oggi e stiamo cercando di fare di tutto, devo dire, con un provvedimento del governo che non condividiamo in toto. Ecco oggi lo stesso Corriere della Sera apre con questo titolo, io lo mostro ai nostri telespettatori, più morti scontro sui divieti, però c'è un sommario che fa riferimento proprio alle vostre azioni. Il governo chiude solo i parchi, regioni e sindaci all'attacco. È poco, agiamo noi, quindi agite voi in autonomia. Cosa manca, quindi? Secondo me dovremmo chiudere tutto e limitare la distribuzione degli alimenti, lo dico dal primo momento, direttamente dal domicilio. Quindi agevolando i servizi a domicilio e cercando di tenere veramente chiuso tutto. Lasciare in mezzo il mondo produttivo aperto e poi togliere la domenica ai supermercati ha creato soltanto una confusione generale. Tutti noi oggi, noi sindaci della città metropolitana di Bari, ci siamo scambiati delle opinioni in un gruppo chat comune e tutti noi stiamo riscontrando delle file abnormi presso i supermercati, perché oggi è la prima settimana in cui si applica il divieto di vendita domenicale. Quindi tutti i cittadini si sono trasferiti presso i supermercati, assurdo anche consentire o aver consentito in toto l'attività motoria finora, assurdo anche l'introduzione, ma questo purtroppo è un problema che insiste anche in termini di sicurezza, introdurre le bici elettriche sul mercato senza l'obbligo di targa, che ha favorito soltanto la delinquenza. Sembra che ci vogliamo fare male da soli. A questo punto, con mezzo mondo produttivo aperto, i supermercati aperti, i panifici, gli alimentari aperti, non ci resta che fare appello al buon senso dei cittadini, chiedendoli di restare a casa e di evitare in qualsiasi modo gli spostamenti dalle abitazioni. Ovviamente lei, come tanti altri sindaci, non solo Pugliesi e Lucani, stanno seguendo le linee del governo, però adesso leggo e leggo in diretta con lei la nota che c'è pervenuta da un'agenzia di stampa. Il primo cittadino di Bari, sappiamo anche il presidente Anci, ha scritto a Giuseppe Conte. Leggo con te Michele un passaggio. De Caro dice, il decreto Cura Italia non contiene quello che è indispensabile per i comuni, settori in crisi, al pari dei settori economici, già esposti alle conseguenze dell'emergenza. Vediamo diminuire in queste settimane il nostro fatturato. Dateci una mano. Quindi un appello che arriva da tutti i sindaci. Sì, ce l'ha fatta legge, l'abbiamo condivisa insieme. Noi come comuni siamo preoccupati. Io sono preoccupato ancora di più per i cittadini, perché non saremo in grado di svolgere i servizi che abbiamo sempre svolto. Le piccole e medie imprese sono state lasciate in un limbo e secondo me i 600 Euro per i possessori di partita IVA, peraltro escludendo i professionisti, i libri professionisti, che occupano un mercato di ricaduto occupazionale notevolissimo per i giovani. È assolutamente una misura che si poteva evitare. Dobbiamo invece insistere sul credito a tasso zero, dare la possibilità alle persone di cominciare a restituire finanziamenti a tasso zero almeno a tre anni a partire dall'erogazione del finanziamento e chiedere aiuto alla Banca Europea degli investimenti. Questo secondo me è l'unico strumento per far riportare una propensione al consumo alta dopo questo disastro e evitare che ci siano le chiusure inevitabili delle attività commerciali, professionali e di servizi che poi si andranno a tradurre in una domanda di welfare che noi non saremo in grado di sostenere. Questa situazione non la stiamo affrontando, ripeto, con uno spirito progettuale, la stiamo affrontando con uno spirito molto emotivo e che non tiene conto di alcune priorità. E ovviamente, come al solito, si andrà a catapultare tutto sui sindaci che in questi momenti diventano delle persone importanti, poi superati questi momenti di emergenza, scusatemi l'amarezza, ma diventano soltanto strumenti di macchine elettorali o magari buoni portatori di voto. Sì, purtroppo quello è il rischio che si corre anche in queste situazioni. Io, Michele, vorrei prima di salutarti, capire un po' qual è la situazione lì a Bitonto, se riesci insomma a restituirci dei numeri aggiornati della tua città. I numeri aggiornati, come ho detto oggi, sono sei, di cui quattro ufficiali comunicati dall'Ase e due che si sono autodichiarati. Poi è uscita una notizia su due esponenti delle forze dell'ordine che anche loro sarebbero contagiati, il che non mi meraviglia perché ovviamente più li obblighiamo ad esporsi sulle strade, grazie ai cittadini che non vogliono sapere di restare le proprie case e grazie anche a qualche provvedimento come viene di qui sopra, ne abbiamo detto, e più aumenta il rischio di contagio, così come il contagio è altissimo anche presso gli operatori della sanità pubblica. Qui stiamo facendo una corsa contro il tempo. Noi speriamo che tra due settimane, tre settimane, veramente finisca la pandemia e possiamo contarci purtroppo i morti, le vittime e i danni, perché se così non fosse, quindi se dura più di tre settimane, io non so davvero cosa altro stiamo a fare qui, perché ci saremo contagiati tutti quelli che staranno sulle strade e operare per la comunità e quindi non sarà più nessuno erogare i servizi pubblici, compresi i ricoveri. Ci auguriamo ovviamente che tutto questo passi presto con te. Voglio lanciare un appello, così come chiedo a tutti i miei ospiti, restare a casa, tu lo fai in maniera anche dura e incisiva sui tuoi canali, io ti seguo. Sì, io cerco di fargli capire che questa è finita l'epoca dello scaricabarile, cioè non possiamo aspettare che arrivi qualcuno che ci risolve il problema, che arrivi l'esercito, che elimini tutte le persone dalle strade e li riporti a casa. Dobbiamo stare a casa, perché è l'unico modo innanzitutto per preservare noi stessi e poi secondo punto per dare realmente un contributo alla salvezza della comunità. Noi dobbiamo pensare come se fossimo sotto un attacco alieno e ognuno di noi viene chiamato a salvare la propria comunità. Ecco, a noi ci viene richiesto di restare a casa. I nostri nonni facevano i partigiani e lottavano per la liberazione, noi invece stiamo qui e dobbiamo soltanto restare a casa e non siamo neanche capaci di assolvere a questo compito. Allora ti ringrazio Michele per essere stato con noi, ti auguro un buon lavoro come lo stai facendo. Grazie, anche a voi. Buona giornata.